Il clan d'Alessandro aveva assunto il monopolio del mercato degli stupefacenti in un'ampia zona del napoletano tra Castellammare di Stabia, Santa Maria la Carità, Vico e Quenze, sulla penisola sorrentina dove smerciavano cocaina, imprenditori e professionisti e grazie all'alleanza con il clan a Feltra di Martino si arresto all'area dei Monti Lattari. È quanto emerge da un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata che oggi hanno notificato 26 misure cautelari, arresti in carcere, domiciliari e obblighi di presentazione nei confronti di soggetti gravemente iniziati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente, reati tutti aggravati dalle finalità mafiose. Per aver agito, spiegano i militari in una nota, abbalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al clan d'Alessandro, operante a Castellammare di Stabia, nonché al clan a Feltra di Martino, operante sui Monti Lattari. Il provvedimento eseguito trae origine da una più ampia e articolata attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e delegata al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che riguarda un ampio spettro temporale compreso tra il 2017 e il 2018, dove si è dimostrato che il clan d'Alessandro aveva assunto il monopolio del mercato degli stupefacenti sull'intera area stabiese e sulla penisola sorrentina. Inoltre, grazie alla strategica alleanza con il clan a Feltra di Martino, tale sistema era stato esteso anche sull'area dei Monti Lattari. Il meccanismo, spiega ancora la nota, era stato creato ad hoc e prevedeva una piattaforma unica per la distribuzione della marijuana sulle diverse piazze di spaccio sotto la regia di un direttorio composto da elementi di massimo vertice del clan d'Alessandro, che fissava il prezzo minimo di vendita dello stupefacente, in modo da ricavare una quota fissa da destinare al mantenimento degli affiliati detenuti e dalle rispettive famiglie. Sequestrati inoltre beni per un valore complessivo stimato in 15 milioni di euro tra veicoli, appartamenti, ville, conti correnti, libretti di risparmio, depositi di titoli, carte di credito, imprese e le quote di un'azienda di cibo di asporto e un e-deal.